Mille storie e una risposta che funziona, magari non per tutti, ma per molti, moltissimi sì. C'è il 39enne che vive con i genitori e il fratello invalido, il 43enne di origine iraniana, rifugiato politico, che condivide un appartamentino con altri immigrati a 300 euro al mese, ma non ce la fa comunque. L'uomo separato, l'ex benzinaio rimasto senza lavoro, il titolare di un affitto che ha maturato una forte morosità e poi le donne con i figli a carico. Insomma, le vicende che tutti conosciamo purtroppo, ma il fondo diamo lavoro. A queste e a tantissime altre persone ha aperto una tangibile prospettiva di cambiamento e di futuro. Coordinato da Caritas Ambrosiana, fino al 31 dicembre 2021 aveva preso in carico 2.138 persone, avviandone al tirocinio 781. Nel frattempo, al 31 marzo 2022, li abitate a 902. I percorsi di tirocinio conclusi sono 657, quelli in corso 124. Il fondo diamo lavoro è uno strumento di politica attiva del lavoro, evoluzione del fondo famiglia lavoro che la diocesi aveva varato nel 2008 su intuizione del cardinale Tettamanzi come risposta alle gravi crisi finanziarie e occupazionali dell'epoca. Lo strumento principe del diamo lavoro è appunto il tirocinio, calibrato su misura, in base alle competenze di ciascun candidato, nell'ampio ventaglio di aziende partner dell'iniziativa. Per finanziare gli inserimenti, senza gravare sui conti aziendali, già le prese con tempi difficili, il fondo ha finora impegnato 2 milioni e 550 mila euro. E poi dal marzo 2020 è stato attivato il fondo San Giuseppe, su volere dell'arcivescovo Monsignor Mario Delpini, per contrastare la diffusione della perdita di lavoro a causa del Covid-19. Qui le risorse impegnate sono 7 milioni 165 mila euro. Dall'inizio della pandemia, quindi da marzo 2020, abbiamo realizzato circa un migliaio di tirocini, erogando circa 3 milioni del fondo San Giuseppe, che è il fondo che poi ha alimentato questa attività. È un'attività che mira a convincere le persone che hanno perso il lavoro a causa della crisi, in particolare appunto per la pandemia, a utilizzare il proprio tempo disponibile, perché disoccupati, a investire sul proprio futuro. Quindi cercare di capire quali sono le loro professionalità, a partire da quelle quali possono essere le occasioni che possono essere sfruttate e colte all'interno di un mondo del lavoro in totale evoluzione. Pensiamo a cosa ha rappresentato durante la pandemia tutta la riconversione della digitalizzazione e quindi i nostri tutor sul territorio hanno cercato delle aziende che potevano offrire una nuova prospettiva ai disoccupati. Quindi sono stati avviati appunto tutti questi tirocini che hanno prodotto anche delle possibilità di assunzione che chiaramente hanno risolto alla radice il vero problema di queste persone che era l'assenza di lavoro. Qual è la tipologia media di chi si rivolge al fondo di amo lavoro? Beh, sono persone appunto a bassa scolarità, bassa professionalità, che non hanno potuto inserirsi nel mondo del lavoro in maniera autonoma. Quindi hanno avuto bisogno di essere accompagnate, provengono da settori molto precari, anche notoriamente, quindi commercio, l'edilizia, ma anche operai che non avevano le qualifiche e le professionalità o le doti per accogliere appunto queste trasformazioni soprattutto nel campo della digitalizzazione. Però abbiamo trovato anche tirocini, non so, per lavutisti del muletto piuttosto che gestioni anche un po' di base nel mondo del lavoro che ha fame appunto di professionalità che però hanno certi requisiti. di